La bomba esplode verso l'alto. Quello che dovevamo fare è di stare più bassi della bomba. Quando il fondale era 50 metri o 60 o 80 e ti poggiavi sul fondo, al massimo le bombe ti colpivano sui fianchi, ma la bomba sui fianchi ha poco effetto perché l'esplosione va verso l'alto. Danni ne facevano pochi. L'equipaggio si fidava molto del comandante, raccomandava di non consumare ossigeno, di stare seduti.